Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 23 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Voglia di far nulla? Bella fregatura aver voglia di far nulla di martedì e non uno qualunque, locomotore di una settimana normale, questo 22 aprile, numero emblematico, come i 22 arcani maggiori dei tarocchi, vuole da voi non solo concentrazione, ma la capacità di gestire un tutto armonico in tempi abbreviati, da giovedì vacanza. Poverina la luna bilancina che ha un bel passare in sesta casa, quella relativa al lavoro, per invogliarvi. Oggi nemmeno il cipiglio del capo riesce a schiodarvi, continuate a fissarlo imbambolati come se nulla fesse. Impossibile disdire un invito a cena, ma a conti fatti, anche se privati dell'aiuto di Venere e Mercurio non vi rivelate particolarmente eloquaci, la serata si rivela piacevole, inoltre vi portate a casa un buon numero di ricette segrete che il vostro sincero apprezzamento ha convinto a rivelare. C'è un forte sentimento che si esprima attraverso la concretizzazione di un rapporto che potrebbe far nascere nuove coppie. I rapporti di coppie asono in miglioramento e c'è una discreta fedeltà nelle coppie. Oggi fate ben attenzione a chi invitate a casa, potreste pentirvene e ritrovarvi a gestire situazioni difficili. Avete dalla parte vostra un giove che vi è amico e fratello e vi ispirerà alcuni passi giusti da muovere per sfruttare al meglio alcune novità che si presenteranno oggi. Non abbiate eccessiva fretta oggi nel risolvere alcune questioni delicate, trovate il tempo necessario per riflettere e agire di conseguenza. Oggi prendete un po' di iniziativa, è tempo che impariate a camminare con le vostre gambe evitando di farvi spingere da altri. Una serata con amici potrebbe essere rilassante e distensiva. Non dedicate molto tempo a progetti che sembrano campati in aria, siate pratici e abbiate senso organizzativo. In altre parole non rincorrete progetti impossibili. Oggi vi verrà chiesto un piacere che potrebbe costarvi caro, valutate bene prima se è il caso di impegnarvi e, soprattutto, cercate di capire se chi ve lo chiede è in buona fede. Oggi i pianeti predispongono ai grandi ritorni, per molti di voi ci potrebbero essere ritorni di fiamma e impreferibili visite. Siate più pazienti e tolleranti, oggi non è proprio il giorno di esplodere. Usate il massimo della diplomazia. I nati di giovedì avranno momenti piacevolissimi in amore. Col vento in poppa vi farete guidare dal vostro formidabile fiuto per trovare occasioni fruttuose dove far fiorire i vostri talenti. Svolte decisive, determinate dalla prodigiosa e efficacissima congiunzione di Giove con Urano nel vostro segno vi attendono, specie se siete nati nella terza decade e in ogni campo, vedrete che miglioreranno la vostra esistenza intera. Vi farà piacere iniziare la nuova settimana, tra l'altro breve con il ponte del 25, con la giornata mondiale dedicata alla madre terra, alla quale per parentela zodiacale vi sentite legatissimi. Innegabile il benessere, anche se l'eleganza oggi non rientra tra le vostre priorità, troppo presi da impegni di lavoro o dal vostro immenso amore per la natura, che vi porta nel verde con i vostri figli o con il quattro zampe, in realtà più smagnosi voi di questo contatto rispetto a loro, che stanno bene in ogni luogo, purché possono giocare e divertirsi in armonia. Amore ed eros. Sentimenti tranquilli, nulla a che vedere con la passione incendiaria dei film, ma anche rilassarsi o perfino annoiarsi insieme è indizio di un'intesa ben assortita. Se pensate di prendere in casa un quattro zampe lasciate che sia lui a scegliere voi e non viceversa, il feeling sarà perfetto. Esplosivi, coinvolgenti, divertenti, voi toro rappresentate il partner, o la partner, ideale in questo momento sulla piazza. Se siete single è arrivato il momento di giocare tutte le vostre carte e scendere in campo con chi vi interessa. Venere, governatrice del vostro segno, lavora, dal buon vicino segno della riete, affinché arriviate a scoprire, qualsiasi età a voi abbiate, che la parola amore esiste e si scrive a caratteri maiuscoli nel vostro cielo. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 del mese di aprile al 7 del mese di maggio. Lavoro e denaro. Giornata tutta lavoro, naturale, visto che per molti domani sera significherà partenza. Da fare ne avete ancora parecchio, quello che vi manca è la voglia, quando ci si sente indirittura d'arrivo si perde mordente, tentati di rinviare tutto a momenti più propizi. La luna, si sa, concilia la fantasia e l'introspezione, non certo l'iperattività lavorativa, favoriti dunque i creativi, che da queste giornate trarranno ispirazioni felici da fissare sulla carta, sulla tela, sullo spartito musicale più in là. Se siete nati nella seconda decade taurina avvertite l'influenza di un positivo Saturno in pesci, dunque vorrete appropriarvi, con forza di volontà e concretezza operativa, di quanto vi spetta in campo professionale. I vostri sforzi recenti sono stati infatti di primo ordine, ne raccogliete presto i frutti anche sul piano economico. Benessere Bellezza e benessere oggi non fanno il paio, ma siete comunque amabili e in questo momento storico è la cosa più importante. Per tirarvi su indossate i vostri colori, tutte le sfumature del verde e delle rosa. Stesse tonalità anche per i cristalli, crisoprasio, olivina, corallo e quarzo rosa. Denaro La configurazione odierna vi invita ad alzare la posta nelle questioni finanziarie e nella capacità di far fruttare il denaro. La congiunzione Giove, Urano lavora per voi e per i vostri successi, specie se siete nati nella terza decade. Per lei, idee martellanti in testa, rivedete tutti i vostri progetti più ambiziosi, mettendo un'attacca per ogni sconfitta. Lezioncina del saggio, forse mirate troppo in alto. Per lui, nonostante gli allenamenti quotidiani, i vostri tempi nella corsa al parco subiscono una flessione, naso chiuso, iniziano le allergie di primavera. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie per aver guardato il video.